Un padre, un fratello, un amico. Lo era per tutti coloro che hanno incrociato il suo cammino, il suo sguardo, la sua parola. Lo ha ricordato così anche Monsignor Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari Bitonto, intervenuto a Molfetta in una cattedrale gremita di fedeli per celebrare i funerali di Don Domenico Amato. Per tutti Don Mimmo, il sacerdote di Scepolo di Don Tonino Bello, scomparso domenica scorsa per le conseguenze di un ischemia cerebrale. Più di un migliaio le persone che hanno voluto rendergli omaggio porgendogli l'ultimo saluto. Oltre ai familiari, anche i vescovi e i sacerdoti del territorio, le autorità militari, i sindaci delle quattro città di Molfetta, Giovinazzo, Ruvo e Terlizzi, che compongono la diocesi di cui Don Mimmo è stato vicario generale per circa tre anni e amministratore negli ultimi tre mesi dopo la scomparsa del vescovo Don Luigi Martella. Un faro per la comunità locale, o per usare le parole di Monsignor Cacucci, il collegamento tra il nostro pellegrinaggio e la mita finale. La sua intensa vita, la sua passione per i libri, lo studio, la teologia, divulgati sempre con grande semplicità, sono stati ricordati nel messaggio del sindaco di Molfetta Paolo Anatalicchio, che in occasione dei funerali ha ordinato il lutto cittadino. L'Anatalicchio ha sottolineato con commozione la costante attenzione di Don Mimmo per l'operato della sua amministrazione, sempre rimarcando le necessità degli emarginati, dei poveri e dei disabili. Durante il rito del commiato, il suo feretro è stato accolto da un lungo applauso all'esterno della Chiesa, il ringraziamento dei fedeli ad una guida che non ha mai fatto mancare il suo sostegno e il suo conforto spirituale.